Franco Manfredi, col nuovo libro sei diventato un po' il Dan Brown della bassa, sembra quasi un codice da Vinci bis diciamo. Allora ti posso dire che non ho mai letto il codice da Vinci, purtroppo sono ignorante anche in questo. Non consideratelo un nuovo codice da Vinci perché sareste fuoristrada, ma il casalese Franco Manfredi, frequentatore abituale della Val Rendena, dove la presenza casalasca e cremonese di villeggianti tra Carigiole e Pinzolo è molto densa, è stato contagiato da una vera e propria passione. La prima volta accadde nella chiesa cimiteriale di Santo Stefano a Carigiole, dove una delle figure sacre affrescate dai baschenis, pittori che in pratica lavorarono in tutta la Val Rendena, aveva sei dita in un piede. Era per la precisione l'apostolo prediletto, Giovanni. Sei dita? Un errore di calcolo forse, dato che i baschenis non erano istruiti e invece no. Perché di lì a poco Manfredi ha scoperto altri casi di esadattilia nell'arte sacra, arrivando a contarne una ventina, due dei quali anche a Casal Maggiore. E se del caso del dipinto di Gesù Bambino al santuario della fontana di Casal Maggiore con un piede a sei dita, già parlammo la scorsa estate, l'ultima scoperta arriva da Motta Sanfermo, nella chiesetta appunto dedicata al Santo che dà il nome alla frazione. La prima cosa della mia ricerca è quella di documentare queste particolarità, la seconda è di ricercare, se possibile, una motivazione che ha portato tanti artisti a defigiare i personaggi con sei dita. Non si tratta di errore come poteva essere stato pensato in un primo momento, non si tratta di un restauro fatto male, perché i casi sono tanti. Probabilmente è un mistero, probabilmente è un segreto. Avvicinandosi con lo zoom, il particolare delle sei dita nella mano destra della figura orante è evidente. Manfredi lo chiama turismo del mistero, o meglio è convinto che questa possa essere una delle strade per attirare nuovi visitatori sia in Valrendena, ma considerando i casi presenti anche nel Casalasco. Figure con sei dita vennero realizzate addirittura anche da Raffaello, dunque non si tratta più soltanto di una distrazione o di un errore di calcolo. Manfredi ha pensato di raccontare la sua storia e di raccogliere i carteggi avuti, con storici dell'arte, uomini di cultura, tra cui Clelia Tranquilli di Milano, una delle principali studiosi di questa anomalia artistica, ma pure medici che ben conoscono l'anatomia umana, in un libro, Lo strano caso delle sei dita. C'è chi come Don Vincenzo Biagini di Carisolo, in Trentino, da dove tutto partì, temeva che Manfredi cercasse quasi una prova dell'esoterismo. Non dimentichiamo che dopo il concilio di Trento, le streghe vennero confinate in Val Genova. In certi casi chi aveva sei dita era considerato eretico. In realtà il casalese si è limitato a documentare e raccontare. Può anche darsi che il sei si riferisca al numero perfetto teorizzato da Sant'Agostino, perché il mondo venne creato in sei giorni. Sia come sia sono almeno cinque gli artisti rinascimentali che di certo hanno creato figure con sei dita, una nuova strada tutta da scoprire e sondare. E una chance turistica in più ben consci che la ricerca racchiusa nel libro di Manfredi è soltanto un nuovo inizio.